Ragazzi buongiorno nuovamente con Cristian Moletto, esperto di nutrizione, andate a seguirlo sul suo canale. Oggi parliamo di proteine e in special modo andiamo a capire qual è il momento migliore della giornata per assumere le proteine, per beneficiare di tutte le loro proprietà, perché le persone pensano mangio le proteine, cresco muscolarmente, mangio le proteine, questo mi aiuta a favorire il dimagrimento. Certo. Secondo te qual è il momento migliore per assumere le proteine, se esiste un momento migliore oppure possiamo mangiarne a largo della giornata quando ci pare? Allora le proteine tendenzialmente possono essere assunte un po' durante tutta la giornata, però possono anche essere assunte in modo concentrato. Allora intanto spesso si fa lo spuntino proteico a base di proteine che si reputa essere il momento migliore per creare un effetto anabolico, invece bisognerebbe fare l'opposto, farlo dopo l'allenamento, perché prima tendono ad affaticare lo stomaco e ridurre la performance sportiva, anche perché ha un effetto di digestione abbastanza lungo. Mentre dopo, assunte insieme a una piccola quantità di carboidrati, è il timing ideale per assumere le proteine, perché ha un effetto anabolico maggiore. Se dovessimo assumerle prima, allora la tempistica, quanto tempo prima potremmo andarle ad assumere per non avere delle problematiche durante l'allenamento? Io direi almeno 2-3 ore prima, 2-3 ore prima per riuscire a digerire bene. Poi dipende anche dal tipo di sport che uno pratica, perché io faccio calisthenics e qui su questo canale so che ci sono molte persone che fanno calisthenics, in quel caso lì è meglio allenarsi non dico a digiuno ma quasi, giusto per comunque migliorare la performance, perché comunque chi fa calisthenics deve essere più leggero, lavora a corpo libero, è tutto un altro stile. Invece se uno lavora in palestra e quindi fa pesi, piuttosto che powerlifting, insomma vari tipi di attività con i pesi, a quel punto lì potrebbe anche essere buono assumere 2-3 ore prima. E se dovessimo dare dei consigli, chi deve dimagrire che magari sta attuando già un'alimentazione con restrizione calorica, ci sono dei momenti in questo caso per favorire l'assunzione proteica? Sì, allora intanto se uno è abituato a fare colazione a base di carboidrati, assumere un po' di proteine al risveglio potrebbe essere un'ottima soluzione per tamponare la fame e arrivare fino a pranzo, non sentire morsi nello stomaco e poi in generale comunque chi dimagrisce deve comunque aumentare un pochino le proteine per proteggere la muscolatura dal catabolismo. Altri timing ideali, sicuramente la sera potrebbe essere utile anche per lo stesso motivo della mattina, quindi durante il periodo notturno, comunque è un periodo bello lungo, sono 8 ore di sonno, quindi c'è bisogno di un'assunzione proteica che si distribuisca anche durante la notte. Altri momenti sono sempre quelli in cui ci accompagniamo dei carboidrati per non alzare troppo la glicemia, per controllarlo un pochino, come sappiamo le proteine comunque vanno a stimolare l'azione del glucagone che è in contrasto con quella dell'insulina, quindi vanno un pochino a bilanciare la situazione. Perfetto, quindi abbiamo capito che in realtà non c'è proprio un solo momento per andare a assumere le proteine, possiamo mangiarle durante la giornata, poi ovviamente ogni caso potrebbe essere specifico, però prima o dopo abbiamo capito, probabilmente meglio dopo, se le mangiamo prima lasciamo il tempo comunque per riuscire a fare una digestione completa e poi ci andiamo ad allenare. Andate a seguire Cristian e ci si vede prossimamente con un altro video. Ciao ciao ragazzi! Ciao ciao!